Blitz della squadra mobile di Caltanissetta, sequestro record di cocaina, più di tre chili, in trappola anche mezzo chilo di hashish, due gli arresti. Eccoli qui, su di un tavolo della squadra mobile di Caltanissetta, sono tre pacchi, celofan e nastro adesivo, dentro vi è cocaina, in pietra pura, di straordinaria qualità. Sono stati poggiati sulla bilancia che ha risposto tre chili e cinquanta, sequestro record, il capo della squadra mobile di Caltanissetta, lui Giovanni Giudice ed il questore Guido Marino non hanno dubbi, è il più ingente sequestro di cocaina della cronaca antidroga nissena ed è uno dei primi in tutta Sicilia. I tre scrigni imbottiti di polvere bianca sono tra le mani di tre poliziotti, eccoli, e sono gli stessi che hanno fermato un'automobile sospetta lungo l'autostrada Catania-Palermo, vicino allo svincolo per Caltanissetta. La paletta rossa, tra le grinfie del controllo, lui, libero Francesco Matera, 56 anni, fuori dalla sua auto, lui è nervoso, il suo temperamento lo tradisce, i poliziotti intuiscono l'ispezione, cercano e trovano. Pensate, i tre pacchi saltano fuori tra il tetto dell'automobile e il tettuccio apribile in vetro resina. Sono stati quasi invisibili, anche all'olfatto dei cani antidroga, sì, perché sono stati avvolti con del materiale plastico termosaldato, per evitare che sprigionassero odore rintracciabile dai cani. Adesso, libero, Francesco Matera è libero di nome, ma non di fatto, perché è stato ammanettato, arrestato e adesso è carcerato. Nel frattempo, la furia investigativa della squadra mobile nissena non si placa. I poliziotti volano ancora e atterrano in epicchiata dentro casa di lui, Salvatore Salvaggio, 24 anni, che abita nel quartiere stazione. Lui, Salvaggio, sarebbe stato a dieta, però non a base di frutta e verdura, ma di stupefacenti. Sì, perché, pensate, dentro il forno della cucina i poliziotti non hanno scoperto la pizza, ma queste quattro barrette di cioccolato. Eccole qui, è hashish, 412 grammi, quasi mezzo chilo, anche perché vi sono tracce di altro hashish già tagliato. Anche Salvatore Salvaggio, come libero Francesco Matera, è in carcere. Anche Salvatore Salvaggio, come libero?